L'associazione La tua voce per sempre organizza per il 18 agosto in piazza Sacro Cuore a Monte Rosello il sesto tributo anni 60, 70, 80 al folklore sassarese non solo. Una serata il cui obiettivo è quello di far rivivere attraverso la musica e l'unione di più persone chi non c'è più. A partire dalle ore 20 saranno numerosi gli artisti locali che saliranno sul palco allestito a ridosso della parrocchia del Sacro Cuore per offrire il loro contributo. Tra le iniziative collaterali della manifestazione Canora, quella messa in campo dall'Avis di Via Pavese a partire dalle 8 del mattino fino alle 19 per la donazione del sangue. A tutti i volontari che dovranno rigorosamente presentarsi a stomaco vuoto sarà offerta la colazione ma soprattutto un controllo gratuito dell'udito. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco del Sacro Cuore ricordiamo il gruppo Folk Sant'Uba Inzo, Noemi Giordo, Gianni Piras, Gian Mario Virdis, Nicoletta, Angela Mariani, Giuseppe Manca, i Gittani Sassaresi, il trio Folk Romangia, Antonio Oggiano, Nicola Marini, Carlotta Musanti, Morgana Siddi, Davide Oggiano, Gianni Paulesu, Nicola e Marco, Giussi Pischedda, Sisula Folk, Idea Mark, Quinto Zedda, Paride e Pino, Andrea De Rio, Pietro Sanna e Silvia Pasca. L'evento sarà presentato da Narita Oggiano e da Anthony Pet.